Allora, salve a tutti! Questo nuovo video viene dalla volontà di dialogare con coloro che sono sospesi, in particolare, tra coloro che in questo momento stanno lottando dentro di sé nel disperato tentativo di evolvere a un'evidenza che la loro coscienza preme sempre di più perché venga a galla e allo stesso tempo anche per dare degli elementi a quelli che invece hanno già transitato a una forma di coscienza alta e di volontà di non chiudere gli occhi, di dargli degli argomenti razionali e concluderemo in maniera invece non razionale. Però gli argomenti di tutto il percorso saranno razionali, sono importanti perché evidenziano in maniera chiarissima e abbastanza indiscutibile ciò che sta succedendo. Allora, il tutto si basa su un lutto recente che io ho subito, nel senso che una persona a me molto vicina si è allontanata invocando la sua adesione al marchio verde che sapete che io non accetto, né accetterò mai e non applicherò mai in nessun modo. È stato un allontanamento molto doloroso, molto doloroso, che mi ha fatto riflettere. La persona nel giustificarsi da questo allontanamento ha citato l'argomento principe di tutti quelli che in qualche maniera tentano disperatamente di difendere questo padre stato e cioè il principio di solidarietà che vigerebbe nella Costituzione secondo l'articolo 2. Adesso leggiamo quest'articolo 2 così come riportato dalla Costituzione. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, che mette prima, sia nelle formazioni sociali, dove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Questo principio viene invocato in continuazione come principio che in qualche maniera giustificherebbe fra l'altro l'adozione di tutta una serie di normative che sappiamo coercitive, impositive e che forzano lo stesso impianto della Costituzione e delle libertà dell'essere umano. Andiamo a vedere. Allora, intanto questa affermazione di dovere inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, facciamo notare che dovrebbe essere bilaterale. Quindi intanto questa bilateralità noi non l'andiamo a osservare. Abbiamo in questo momento un'enorme immersione di un dissenso indiscutibile. Io spero che questo anche voi che siete sospesi intorno a voi lo vedrete. Saranno filtrate cose. Ovviamente se guardate solo la tv mainstream sarà difficile, ma basta che vi guardate intorno dovrebbero arrivare dall'evidenza sociale che ci sta un enorme dissenso. Riflettete anche solo sulla pressione che il governo sta adottando per imporre determinate misure e ne ricaverete che evidentemente c'è un dissenso notevole, ben più grande di quello che lo stesso mainstream tenta di affermare. Allora questo dissenso costituisce una minoranza. Certo non è una maggioranza, se no a quest'ora sarebbe cambiato, però è una minoranza sostanziosa. Lo stesso Santoro la stimò al 30-40% degli italiani. Quindi non è roba da poco. Allora questa minoranza andrebbe ascoltata la solidarietà politica, economica e sociale dovrebbe prevedere un ascolto, un dibattito in questo senso. Allora questo è uno dei punti più importanti che vorrei sottolineare. L'assenza totale di un dibattito e anzi la presenza sembra quasi diventato di moda la censura. Le fake news vanno censurate. Signori il principio della democrazia risiede proprio nel fatto che non si censura qualsiasi opinione, sebbene di minoranza. Ora andiamo a vedere per esempio come uno dei fondatori del liberalismo, cioè John Stuart Mill, nel 1859, questo filosofo ed economista stimato da Bobbio, da Giuseppe Mazzini e tanti altri, definiva il discorso sulle opinioni per quanto riguarda la democrazia nello Stato. Ci dice proprio Mill, quando anche l'intera umanità, a eccezione di una sola persona, avesse una certa opinione e quell'unica persona ne avesse una opposta, non per questo l'umanità potrebbe metterla a tacere. Non avrebbe maggiori giustificazioni di quante ne avrebbe quell'unica persona per mettere a tacere l'umanità, avendone eventualmente il potere. E ancora dice, impedire l'espressione di un'opinione è sempre e comunque un crimine, un crimine. Infatti, se l'opinione è giusta, coloro che ne dissentono vengono privati della verità. Invece, nel caso che sia sbagliata, coloro che ne dissentono sarebbero privati di un beneficio ancora più grande, cioè quello di vedere rafforzata la loro verità medesima per confronto con l'errore. La diversità è sempre altamente auspicabile. Questo perché l'uomo, che è di per sé relativo, non può avere sempre verità assolute. E quello che è falso oggi potrebbe essere vero domani. John Stuart Mill, lo trovate su Wikipedia, lo trovate su Wikipedia, digitate questo nome John Stuart Mill e ritroverete le stesse identiche citazioni che vi ho fatto io. Ecco, quindi non si può tacitare una minoranza, peraltro così sostanziosa, che esprime un dissenso. Va ascoltata. Ora, torniamo alla nostra questione di coloro che sono sospesi. Allora, l'argomentazione che più spesso vi sentirete dire è il principio di solidarietà sulla base del quale si invoca la superiorità del bene collettivo sul bene individuale, cioè i sacri sieri devono essere somministrati in quanto garantirebbero un bene collettivo che va al di sopra del bene individuale. Allora, vediamo un attimino dov'è che questa affermazione crolla miseramente. Allora, il crollo principale è per fare questa analisi, badate bene che mi sono studiato dei testi indiscutibili, tra cui degli articoli contemporanei del 2021 riportati su Costituzionalismo.it, che è una rivista ufficiale, fondamentale di diritto costituzionale, nonché alcuni video di costituzionalisti, tutti a favore del sacro siero. Allora, però, purtroppo, le loro argomentazioni erano molto fragili. Non ho trovato cattiveria nelle argomentazioni, ho trovato fragilità. E vediamo qual è questa fragilità. La fragilità principale che essi invocano un bene collettivo, dando per scontato l'analisi del bene collettivo. Una di questi costituzionalisti, veramente più profonda di altri che ho sentito sul web, giustamente diceva che il bene collettivo però dipende dalla valutazione che viene fatta sui dati scientifici. Ed ecco qui il baco. Questo è il baco. Quali sono i termini di valutazione di questa situazione? Allora dovete far notare che il problema è proprio lì. Il momento in cui i termini di valutazione di questa situazione sono quelli relativi alla medicina dominante e alla medicina di interesse, cioè in poche parole grosse istituzioni, grosse ditte, grosse eccetera eccetera, è chiaro che non c'è una valutazione diciamo veramente democratica. Bisogna cominciare a riconoscere che esistono altri tipi di medicina che stanno emergendo. E questo è il primo punto. Esistono altri tipi di medicina, esistono altre forme di cura, stanno emergendo. Signori queste cose stanno sui tavoli di tutte le case farmaceutiche che hanno analizzato i grafici di salita esponenziale nel consumo di terapie alternative e nella fiducia che la popolazione sta riponendo sempre di più in metodi di cura alternativi. Questa salita è esponenziale. E ovviamente le case farmaceutiche si sono poste il problema. Questa roba lo sanno benissimo che non è fermabile. Però devono in qualche maniera arginarla per cercare di fare come è stato fatto con le macchine elettriche. Le macchine elettriche all'inizio del Novecento già esistevano, sono state messe in un bel garage, tenute ferme cento anni in modo da far sì che il consumo di carburante e fossile eccetera andasse avanti fino al massimo e adesso vengono ritirate fuori quando evidentemente quella risorsa sta svanendo. Ora dobbiamo capire che se questo atteggiamento potrebbe essere accettabile e diciamo potrebbe essere accettabile nel caso di un oggetto come la macchina diventa insostenibile nel caso di l'argomento salute. Cioè non possiamo nel frattempo spararci delle robe obsolete e che comunque hanno un limite a non limite solo perché chiaramente chi le vende ha interesse a spararsi tutte le sue cartucce. Dobbiamo riconoscere che c'è l'emersione di una nuova medicina. Allora giudici miei cari e voi che siete sospesi, volete riconoscere che c'è una nuova medicina? Questa nuova medicina fa affermazioni da un punto di vista scientifico e da un punto di vista dei risultati, risultati, quindi è una medicina che si basa sui fatti, sui fatti, cioè sui risultati, su chi guarisce, che sono contrastanti con quello di un certo mainstream medico scientifico. Allora o siamo degli scientisti, cioè crediamo che la medicina sia diventata una religione o dobbiamo aprire questo dibattito. Va aperto un dibattito perché se a me un medico che ha studiato mi dice che c'è un'alternativa al sacro siero, io, io legislatore, io amministratore non dovrei mai permettermi di arrivare a un obbligo rispetto a una misura che è considerata relativa, che quindi non è assoluta. I sacri sieri non sono un dogma di fede, sono degli strumenti straordinari se usati quando devono essere usati. Se invece vengono abusati, cioè usati in condizioni in cui ci sono delle alternative, la stessa legge prevede, e questo viene citato dai costituzionalisti stessi, la stessa legge prevede che non si debba arrivare l'obbligo di qualche cosa, sia questo diciamo mediato dal marchio verde, sia un obbligo esplicito, si deve raggiungere solo quando non c'è alternativa, ma l'alternativa c'è. C'è sia nelle medicine non tradizionali e c'è sia nelle medicine tradizionali, perché esistono delle terapie che hanno ottenuto successo e che funzionano. Questo dibattito dovrebbe essere aperto e nessun giudice, nessun amministratore è esentato da questa considerazione. Gli stessi costituzionalisti su questo articolo, su costituzionalismo.it proprio del 2021, affermano che bisogna avere estrema prudenza nel sospendere i diritti dell'individuo, estrema, estrema, estrema prudenza, e questa estrema prudenza, a mio vedere, giustifica l'esaminare la possibilità che ci siano queste alternative, perché c'è una minoranza, non tanto minoranza, che lo sta sostenendo. E come dice John Stuart Mill, non è legittimo tappargli la bocca. Quindi, signori miei, vogliamo ascoltare un attimo questa possibilità alternativa, che peraltro io ho passato sulla mia pelle, visto che ho passato anche questa malattia e so a livello individuale di cosa sto parlando, bisogna aprire questo dibattito. Questo è fondamentale. Questo è un punto fondante, quindi ricordate sempre a chi sostiene il principio di solidarietà sulla base del quale bisogna negare il diritto dell'individuo, che questo diritto dell'individuo può essere negato solo nel caso non ci siano delle alternative. Ma le alternative, se apriamo il dibattito come una società sana prevede, ci sono e come. Quindi, caro giudice, ti prego, apri gli occhi e fatti carico di questa difficoltà che è mettere in discussione tutto il mondo che hai intorno. E caro tu che sei sospeso, apri gli occhi e metti in discussione tutto il mondo che hai intorno e cominci a domandarti ma perché non si apre un dibattito su questa questione. Dobbiamo evolvere. E l'evoluzione della medicina, che non significa dimenticare la medicina che è stata fatta fino adesso, ma significa estenderla e allargarla sulla base dei risultati, sulla base dei risultati. Ecco, è necessaria questa evoluzione. Questa evoluzione della medicina è necessaria. E un legislatore che ha davanti l'onere di dover limitare le libertà individuali non può, per un principio di prudenza e proporzionalità, che sono principi legali, per il principio di prudenza e proporzionalità, non può non andare a esaminare le alternative. Non può insistere sul fatto che non ci siano le alternative perché questo non è vero. Non corrisponde a verità. Ok? Quindi dobbiamo spingere in questo senso. Quando parliamo con persone con cui abbiamo la possibilità reale di discutere, perché tanto ci sono persone con cui non vale la pena di discutere, ma altre con cui vale la pena di discutere, gli dovete dire che non esiste questa cosa perché esistono le alternative. Esistono le alternative e sono evidenti, ci sono e sono proclamate da indiscussi professionisti del mondo scientifico. Quindi vanno prese in considerazione. Ora, questa cosa si accoppia a un'altra osservazione che voglio fare, cioè un'errata interpretazione dell'articolo 32 della Costituzione. L'articolo 32 della Costituzione è proprio quello che parla, appunto, lo leggiamo, del discorso della salute. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. Ma, non c'è il ma, ma è chiaro, la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Mentre molti analisti della Costituzione si sono affannati a spiegare che però c'è la sospensione, per quanto io considero scorretta questa interpretazione, molto umilmente con il mio sentire e con la mia capacità di analisi. Perché è scorretta? Perché i costituenti venivano dall'esperienza del nazismo, dove il trattamento sanitario obbligatorio era stato legalizzato, era legale inferire sul popolo ebraico e fare esperimenti di qualunque tipo. Allora questa legalizzazione, che poi non è solo quello l'esempio, ce ne sono tanti di questi esempi abominevoli, questa legalizzazione era ben chiara nella testa dei padri costituenti e sono loro che quindi hanno detto attenzione mettiamo qualcosa che limiti del tutto in maniera inderogabile anche la follia dello Stato. Ed eccola qua, la legge non può in nessun caso, in nessun caso non esiste principio di solidarietà, non esiste pandemia, non esiste niente, in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana, dal rispetto dell'individuo. Che cos'è la persona umana? L'individuo. Quindi questa parte dell'articolo 32 sancisce purtroppo in maniera inappellabile la supremazia del diritto, del rispetto dell'individuo, della persona umana, al di là di tutto. Puoi avere qualsiasi valutazione ma non puoi fare un trattamento sanitario obbligatorio a una persona che dissente da te in qualunque modo e per qualunque motivo. Questo sta scritto nero su bianco, non c'è molto da dire, no? Questo quindi articolo 32 non c'è molto da dire. Quindi ribadisco quello che è il messaggio che voglio dare. Carissimi pensierosi amici che state crucciati perché non comprendete in questo momento cosa sta succedendo, avete dei segnali che qualcosa non quadra, ma siete circondati in questo momento da un ambiente che vi continua a ripetere. Ossessivamente principio di solidarietà e preeminenza della collettività sull'individuo. Ecco qua. Abbiamo in questo video smontato i presupposti di queste due cose. Il principio di solidarietà è bilaterale e prevede l'apertura di un dibattito politico in cui venga inclusa l'opinione della minoranza a moderare un intervento che in questo momento è monotematico e univoco. Non può essere che il 30, 40 per cento, ma fosse anche il 20 per cento della popolazione italiana venga ignorato. Non è legale, non è democratico, non c'è questa cosa. Per cui vi prego di osservare questo fatto. Secondo fatto il principio di solidarietà e il principio della supremazia dell'interesse collettivo sull'interesse dell'individuo vengono invocati alla luce di una valutazione scientifica. Questa valutazione scientifica si basa su un approccio che in questo momento è un possibile approccio, ma non considera gli altri approcci. All'interno della stessa medicina esistono le cure domiciliari, lo sappiamo. Io sono stato uno di quei prodotti, ok? Sono qua a parlarvi e sono un effetto di quei prodotti, di queste cure domiciliari. Quindi esistono. Quindi alla luce dell'esistenza di queste cure non si può imporre altro. Non è proprio legittimo. Quindi dovete far notare questo fatto. In più ci sono dei dati effettivi che vanno guardati che rendono la valutazione di questa situazione considerata così grave forse un po' meno grave. Non si vuole dire che non esiste, assolutamente, ma forse non è così grave come viene dichiarato. Andrebbe un po' valutato. E quindi alla luce di questa non ipergravità arrivare a un obbligo in cui viene schiacciata la libertà dell'individuo per l'interesse della collettività risulta semplicemente sproporzionato. E quindi per il principio di proporzionalità e di prudenza che dovrebbe essere il cardine della legge, è al cardine di tutte le considerazioni legislative, non si dovrebbe mai procedere verso una direzione di questo genere, bensì altre direzioni, moderate, stemperate dal dibattito con forze altre che sostengono altro. Va bene? Fra l'altro abbiamo una situazione in cui gli strumenti di cui parliamo, cioè il sacro siero, non può essere considerato un dogma di fede. È uno strumento che abbiamo creato un bel po' di anni fa e viva, ha funzionato, ma noi ci evolviamo, ci evolviamo. Quindi non è che si tratta di buttare nel secchio la medicina fino adesso, si tratta di crescere e cominciare a vedere che possono esserci altri strumenti, altri approcci e migliorarci, migliorarci. Questi strumenti sono le cartucce che si devono sparare, si devono sparare in attesa di un passaggio inevitabile che sta accadendo, un passaggio che accadrà per forza, perché questa salita è esponenziale rispetto a terapie alternative, ok? Però vediamo di non massacrarci in questo passaggio, perché va bene la macchina elettrica, ma questa è una cosa ben più fondante. Non possiamo permetterci di attendere cento anni con questa roba, perché noi dobbiamo evolvere e l'approccio della medicina mainstream non è l'unico approccio e soprattutto io quando dico mainstream intendo un certo tipo di medicina, perché le terapie domiciliari di cui abbiamo parlato sono assolutamente medicina moderna e contemporanea. Ma non c'è solo quello, non c'è solo quello e dobbiamo riconoscerlo, perché quello che conta è ciò che funziona. Se uno guarisce, guarisce. Non c'è possibilità di errore, no? O uno non guarisce, o uno guarisce. Se guarisce quella cosa funziona e gli va data dignità, a meno che non sia per altri motivi. Ora è importante che voi sappiate che dopo tutto questo bel discorso razionale torniamo al discorso dello spirito che sapete tanto che a me preme. Molti di voi hanno dei riferimenti che sono cattolici, non perché siamo in Italia. Ora, senza ritirare fuori la religione cattolica che ci interessa poco in questo momento, io parlo di Gesù, di quelli che sono i cosiddetti detti di Gesù, cioè i Vangeli. Ciò che, ecco, nel Vangelo c'è un esempio che conoscete tutti quanti voi che avete frequentato gli ambienti cattolici cristiani, che dice chiaramente, a un certo punto i farisei e gli scrivi, vi faccio notare i farisei e gli scrivi, farisei e gli scrivi, a chi corrispondono i farisei e gli scrivi in questo tempo? Ecco, i farisei e gli scrivi dicono a Gesù, ma tu che cavolo fai? Cioè, i tuoi discepoli strappano le spighe e se le mangiano di sabato non si dovrebbe fare, eccetera. E lui dice, ma che cosa state dicendo? E dice questa cosa, parlando del sabato, perché il sabato non si doveva fare nulla, era sacro, non bisognava fare nulla, quindi quella era l'appunto legalista degli scrivi e dei farisei. E lui dice, non è stato fatto l'uomo per il sabato, ma il sabato per l'uomo. Cioè, parafrasato, non è stato fatto l'uomo per la legge, ma la legge per l'uomo. E dove intendiamo la legge il frutto di uno sforzo collettivo di autodisciplina? Indiscutibilmente Gesù sancisce la supremazia della libertà individuale rispetto alle norme collettive. Quindi non è stata fatta la legge, non è stato fatto l'uomo per la legge, ma la legge per l'uomo, la legge per l'uomo. Ciò che avviene prima è lo spirito e l'uomo e le leggi si devono adattare. Questa è una legge spirituale che io in un altro video, se volete andatevela a vedere, ne ho parlato diffusamente. Nello spirito non esiste questa antinomia. La libertà individuale dell'anima individuale è sempre garantita. Non esiste entità collettiva che possa schiacciare la libertà individuale. Per cui, amici miei, che siete tra coloro che sono sospesi, vi prego, anche in nome dello spirito, in nome di Gesù. Ritornate a dare valore alla importanza fondamentale della libertà individuale, che non può essere mai schiacciata e mai soppressa. E l'ultima osservazione che vi faccio è questa. Molti di voi si attaccano a queste cose, ma quello che io vedo e quello che potete vedere nei vostri occhi quando vi guardate allo specchio è la paura di perdere i vostri privilegi, la vostra tranquillità, la paura di mettere in discussione uno stato papà-padre che si deve dimostrare purtroppo quello che è adesso, cioè un padre incapace, illegittimo. Ma è difficile ammettere tutto questo, perché magari voi siete circondati da questo e metterlo in discussione probabilmente significherebbe per voi mettere in discussione tutta la vostra esistenza. È per questo che se lo farete sarete degli eroi, sarete sostenuti dallo spirito. La vostra vita cambierà in una maniera che voi non avreste mai potuto sospettare e in meglio. Ci saranno momenti difficili, ma ci saranno anche emersioni di universi veramente inaspettati. L'umanità ha bisogno di questo cambiamento. L'umanità ha bisogno che molti di voi mettano in discussione le loro esistenze di fronte a questo abominio che è il marchio verde, a questo abominio che è il prevalere dell'interesse economico su qualsiasi altro valore, perché questo è quello che sta succedendo. In nome della corruzione e dell'interesse, perché questa alterazione e incapacità di ascoltare la lingua della minoranza deriva solo da questa condizione di corruzione avanzata. Io vi sostengo sempre, auspico il cambiamento e lo alimento con tutta la mia anima. Le voglio bene. Ciao.